Musica E' stata presentata questa mattina a Pescara la seconda edizione di Natural Therapy e le cascate l'iniziativa per bambini diversamente abili e le loro famiglie in programma dal 21 al 24 giugno nella riserva delle cascate del Verde le cascate naturali più alte d'Italia all'incontro con la stampa sono intervenuti l'assessore regionale ai parchi e riserve Lorenzo Berardinetti il sindaco di Borrello Giovanni Antonio Dinunzio il direttore della riserva Tommaso Pagliani la presidente dell'ANXA Abruzzo Onlus Alessandra Portinari il direttore della DMC TR del Sangro Aventino Gian Lorenzo Molino e il consigliere regionale Donato Di Matteo che ha voluto sottolineare l'alto valore sociale dell'iniziativa Perché guarda a chi ha difetti dell'evoluzione e della crescita e mette a disposizione un bel patrimonio naturalistico per la cura anche sotto l'aspetto dei pet therapy e quant'altro la cura e poi anche la possibilità per questi ragazzi di poter avere un contatto diretto con la natura che è la nostra forza come regione